Ragazzi, non abbiamo indizi per trovare l'imprenditore di oggi. E ora che si fa? Eh, non lo so. Eh, senza indizi è impossibile. Ma è Raffaele Carlino, presidente di Carpisa. E si va di là. Ma come ha fatto? È bravissimo. Stiamo cercando Raffaele Carlino, presidente di Carpisa. Sono io. Siamo qui per consegnare il braccio destro di Impesa Semplice, ma prima dobbiamo capire se è la persona giusta. Che cos'ha di speciale la sua azienda? Produciamo borse, valigie, accessori moda da oltre 40 anni. E quanti dipendenti avete? 400 e 500 negozi nel mondo. E come fate a comunicare con tutta questa gente? Facciamo videoconferenze con Collabora, il servizio di Impresa Semplice di Telecom Italia. Ah, colleghi. Ha detto Collabora. È lui. Complimenti, signor Carlino. Avevamo visto giusto. Il braccio destro è per lei. Impresa Semplice di Telecom Italia. Gli chiedi una mano, ti danno una borsa. Ma no, il braccio! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.